...e i tuoi punici ...che fuggite ...e un pezza di... ...miguità questo non si vede proprio ...è una cosa, un tiro? ...te l'ha sputato un falco no, non ha sputato niente si, non penso ecco ...e che... ...basta inserire qui giù mi piace roba forza tutto al contrario oh, panto, una corona c'è scritto tutto al contrario le vuole inserite... ...così marao allora non è che si è bloccato qualcosa qui dentro ah è qua, si hai ragione si però non gliene frega niente si che gliene frega e la ripostata fin quando non prendilo giù non ce la... che son se la prendi? io già lo so è ritornato va bene, è fatto colpo si vai lì basta no, le prende si, si le prende mangiare le bottiglie e noi facciamo la spesa questo non ce la prendo no lui si mangia le bottiglie e noi facciamo la spesa lo so questo non ce la prendo no lui si mangia le bottiglie e noi facciamo la spesa quanti punti abbiamo accumulato? Siamo a 13 e 15 anni, diamo tanta medicina così possiamo mangiare tutta la torta che vuole! Boccone! Chiama la polizia! Vedi che bel regalo che ci ha fatto Michael! Però questo non sono casper, in lattina si, in bottigliano! Ma la lattina è alluminata! Vai che l'ha giusto questo! Tattiche per aggiustare, ho imparato! 32,50! Ci compriamo la cioccolata! E' gelato! Andiamo di pezzi grossi! E' il sulu che ti ho comprato io! E' tappia mi sono nato io lì? No! Ehi, 50,50! Facciamo il bingo tra voi! Stiamo diventando ricchi! Come ciò che la mangia? Attenti! Cominciamo a fare! Sì! Sì! Diciamo che non siamo stati nella bella tutte queste vite! C'erano già a casa quando siamo arrivati! C'erano già a casa quando siamo arrivati! Da mattina ero pronta a dire No, ma perché noi se in casa siamo cinque! Questa c'è anche qualche resita di sigaretta! Potrebbe non prenderla! Allora te la spuro! Puff! E tu non faccio! E anche io! E io invece! Nella malattia qualche giorno fa! Sentivo una cosa! Ho sbattuto qui quando non ho uscita! Era un lumacolo! Ci facciamo una spesa questa roba! Sì! Finito? Sì! Ancora! L'ho speso oggi! Questa è una spesa da strada proprio! Sì! E non c'è! E' una spesa! E' una spesa! 76 colonne! Rimettila questa! Voi se la prendi! Sì! Perché non ti piace! E quindi a te l'onore! No! 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 Nel video secondo scelto! 76! 76 corona! Vediamoci! Grazie.